Il protettore è installato nella casa dei figli Poi bisogna lavorare, no? Quando abbiamo l'erba mera, la stiamo chiudendo la metà, la lavoriamo con la secca Perché l'hanno passato con mano lavorato con un busto Perciò, veramente, si è lavorato con la secca Quando è l'audunno, io ce la metto l'erba mera Allora, l'audunno prima l'erba La terra sta scassata con la secca Si, è giusto